Il tempo che ci abbiamo messo è fargli fare il viaggio, preparare l'astronave, ma in futuro questa sarà una cosa che si avranno fare tutti, anche da soli, o facilitandosi la vicenda, creando quella fiducia reciproca che è la base di ogni comunità. La comunità è fiducia di tutti i membri, tutti si fidano gli uni degli altri. Questo mi sembra evidente che è successo. Se qualcuno ha vissuto qualcosa di particolare, che vuol dire? Sì, vieni qua. La prima parte del viaggio l'ho fatta insieme a Alberto, fino a Giove, e l'ho sentito come, cioè io praticamente l'ho preso, lui era più piccolo di me, e quindi quando abbiamo cominciato a partire da questa stanza, siamo andati verso Giove, io lo tiravo, io più grande e lui più piccolino, e lo portavo con me, ma eravamo sorridenti, come sempre. Un amico più grande e uno più piccolo. Ti porta a fare un bel viaggio, sì. E mentre ci avvicinavamo verso Giove, lui cresceva, fino a che a un certo punto, all'altezza di Giove, lui era diventato grande come me, e quindi abbiamo giocato un po' intorno a Giove, e poi siamo messi a cordo, lui ha continuato il viaggio e sono tornato indietro, sapendo che però era in grado di... E' carino, no? E' bello, no? Di fare il viaggio da solo anche, comunque c'eravamo. Che effetto ti fa Alberto questa... Mi piaciuto il fatto quando fa un contatto con me, piccolo Alberto, è bello, è bellissimo, cioè c'è qualcuno di più grande che ti aiuta. Ma soprattutto, voglio dire una cosa, ho notato proprio... Aspetta, voglio dare il microfono. Sto notando adesso, proprio il cambiamento della tecnica, perché ho proprio sentito come se due parti si stessero unendo in una, a livello di cartone, tipo il Magibuc attivo e il Magibuc buono che si uniscono, per so chi ha visto Dragon Ball, ed è un senso di completezza unica, veramente assurdo. Puoi per te ripetere, che non ho sentito bene. E' come se due parti si uniscono. Allora, di qualcuno che ha sentito bene. Tu lo sei sentito bene? Ho sentito solo l'ultima parte, perché ha sentito come se due parti... Allora puoi ripetere, puoi venire qua, perché così ti sentiamo. Senza cartone, ma mi sa che è meglio. Ok. Ecco, vediamo che tutti così sentiamo bene. Bene. E Barbara, sai che a scuola la mettevano sempre in castigo? Ah, ma è terribile Barbara. Dall'elementare in poi passare la metà dell'anno in castigo, perché è birichina. Va bene. Quando ho finito il viaggio, che hai fatto venire Alberto qua, e poi ci hai fatto unire praticamente, ho proprio sentito come se ci fosse un'unione, diventassimo un tutt'uno. E quando andavo lì seduto mi sono un po' accorto, mi sono stato un tutt'uno, con l'esperienza che ho fatto, con le mie paure, e non sono più quella paura, sono il tutt'uno. E l'ho sentito dal mio cuore, ce l'ho sentito da qua sotto, perché appena mi sono fatto, avevo male, anche durante il viaggio, appena c'è stata l'unione, mi è passato male. No, è andata a posto. Ok, come vedete, i fatti continuano a confermare che non siamo proprio sulla strada sbagliata. Quindi, grazie, è stato molto bello, bellissimo, fantastico. Andiamo, c'è qualcun altro che vuol dire qualcosa, che può essere utile a tutti? Vieni qua. Tu sei il papà di Cerse. Hai i stessi pantaloni di Valeria. Eh sì. Ma guardate, ma no, almeno tu c'è, no, questi c'è un po' più larghi, queste striscine che non vanno, cioè non c'è niente contrario con i pantaloni con le strisce, ma un po' più larghi, troppo strette lì. Poi ci si confonde, perché uno dice, ma cos'è, qual è più grossa quella lì? Poi, ma in realtà che roba! Tu, ma tu dovremmo... Questa, questa, queste... Sono, sono... Ma sono in alternanza. Ma sono in alternanza che creano un... Cioè, se uno guarda i pantaloni comincia a confondersi, no? Se guarda i suoi no. No, almeno si capisce, sono linee tutti uguali. E basta. Sono arrivato al negozio e c'era quel modello e questo. E hai scelto questo. E questa è la discriminazione fatta a pantaloni. No, che questo... La sua. Ecco, lo vedi? La sua, la sua. Lei, lei può accusare, fare queste cose, perché confonde. Ma sto accusando. Cioè, accusato, dice, i tuoi pantaloni sono l'esempio della... No, di discriminazione, di bianco e nero, blu e bianco. Antes di discernimento. Discernimento, volevo dire. Perché discriminazione non è proprio la stessa cosa. Discriminare bianchi e neri, discriminare... No, no, discriminare, di-scriminare. No, va bene, allora... Discernimento. Ah, va bene, allora sì. Ma l'ha rimediata l'ultimo. Ma mica non lo sa la differenza tra discriminare, dicerno. Però, lei cos'è? Che con questi pantaloni attira l'attenzione, ci confonde e dopodiché lei può dire quel che vuole. Cioè, vediamo. Va bene, Dario. Allora, dici che cosa ci volevi dire. Che magari vuoi dire ancora adesso. Io ho fatto il viaggio insieme a Alberto. Anche lui. E' stato bellissimo quando siamo tornati sulla terra. Ti ci hai detto di rallentare, ovviamente, perché sennò andavamo a fuoco. Non volevo bruciare i pantaloni. Cioè, ha comprato un paio di pantaloni così, se li vuol fregare, no? Vedi che c'è... Vedi che c'è... Anche tu l'hai fatto. Quindi hai fatto la stessa esperienza sua. E quindi hai sentito l'unità che ne deriva. Io ho sentito l'unità. E proprio quando sono andato a abbracciare Dario che era seduto lì, ho sentito... Non so se avete presente quella figura evolutiva che c'è il primato e poi l'homo sapiens. Sì, 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 sì. Ho sentito tutti i bambini, proprio tutti. Allora, non è male, perché cosa è successo? Che lui ha fatto lo stesso lavoro, quindi in un colpo solo ne sono fatti due. Sì, ci eravamo anche abbracciati ieri sera, lui mi aveva detto che voleva fare questo lavoro. Da tempo condividiamo l'idea del viaggio, lui mi ha parlato di... Quindi ci siamo fatti questo viaggio insieme, l'abbiamo già fatto, non c'è bisogno di fare biglietti, di andare da nessuna parte. Abbiamo risparmiato. Perché se uno dovesse pagare un viaggio simile, c'è un viaggio del genere, non ha prezzo, cioè la NASA non è in grado di farglielo fare, bisogna... No. Va bene, ottimo, grazie. Grazie, benissimo. C'è qualcuno che abita a Galarate qua? No, anche uno. C'è, ma non c'è. Non c'è. Si sente, però, si sente proprio. Posso dire una cosa? Col microfono. Io mi sono commossa quando ha parlato Renato e adesso Dario che ha detto quello che ha detto. sempre di più questi lavori che stiamo facendo fanno in modo, uno, che lavoriamo tutti, ma questo era già successo in passato, ma che davvero i più grandi possono aiutare i più piccoli, che è il viaggio che ha fatto Renato, eccetera. è davvero così, nel senso che ci possiamo aiutare mentre una persona lavora, oltre che identificarci, anche aiutarlo. quindi è davvero un lavoro comunitario. Esatto. Va bene. Elisa? Aggiungo solo questa frase perché l'ho sentita molto quando l'hai detto, cioè c'è proprio l'istinto di voler aiutare. C'è l'istinto di voler aiutare, mentre hanno cercato di installarci l'istinto di non aiutare nessuno. Il lavoro suo. Cioè noi dovremmo in realtà, per aderire alla società di oggi, essere competitivi, quindi non aiutare proprio nessuno. Oh, in America, forse non avrete letto il libro La povertà in America, di una professoressa dell'Università di Torino, che comunque ci siamo sentiti per telefono, poi, e appena gli ho parlato, ho sentito che non era una docente qualsiasi. Era particolarmente, cioè, eravamo come fossimo amici da sempre. Poi ho letto il suo libro, e il libro è molto semplice, dice praticamente in America fare del Mosino non si può, è reato. Ma vi rendete conto? E i poveri devono essere portati fuori dalle città, per non disturbare la coscienza, direi di più, più abbienti. Perché i poveri in realtà sono poveri, perché sono alcolizzati e drogati, perché hanno tradito le loro famiglie. Quindi il mainstream in America, che sarebbe il luogo dove c'è il massimo di cultura, secondo il mainstream, perché, beh, gli Stati Uniti, la democrazia è statunitense. Ecco, la democrazia è arrivata a questo punto, in cui hanno fatto delle leggi per cui coloro che sono poveri non devono poter stare in città. Ma devono, li prendono, li metto su dei pulmi, ma li portano fuori a perdersi. Anche qua non? Come? Anche qua. Beh, anche qua cerchiamo di imitare gli americani, ma non abbiamo lo stesso livello, siamo più indietro. Infatti, perché abbiamo questo senso di inferiorità, italiani? Perché non abbiamo fatto veramente, siamo meno bravi. Cioè, c'è ancora, qui c'è, credo c'è ancora la Caritas, ci sono queste cose qui, queste associazioni veramente orribili. Quindi, come si fa ad aiutare gente che ha fame, gli dai da mangiare, ma se ha fame, perché non lavora, vada a lavorare. Non c'è lavoro, ma non c'è lavoro perché è abriaco, se no ce ne sarebbe. Ecco, questo è il futuro che noi dobbiamo cambiare, ovviamente. E qui mi sembra che stiamo mettendo le fasi in una società diversa. Grazie a tutti, ci vediamo pomeriggio a tre e mezza. Grazie. Applausi. Grazie.